Dagauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale Torrette, Mercogliano, Avellino. Un fermo di polizia giudiziaria ed un indagato, la cui posizione ancora al baglio dei carabinieri, per i due agguati in Valle Caudina, la svolta è arrivata ieri. A distanza di poche ore dalle due gambizzazioni, la prima a Cervinara, la seconda a San Martino, Valle Caudina. Il fermo di polizia giudiziaria di indiziato delitto per tentato omicidio, lesioni gravi e porto abusivo di armi è scattato nei confronti di un 32enne che, accompagnato dai suoi avvocati, si è costituito ai carabinieri, dichiarandosi responsabile di entrambi gli episodi, ammettendo di aver sparato e ferito prima il 22enne a Cervinara e successivamente il 29enne a San Martino, Valle Caudina. Quando gli è stato chiesto il motivo di quei gesti, il 32enne ha precisato di aver agito sotto l'effetto di alcol e droga e poi si è sentito male, tanto da essere trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Rummo di Benevento, dove è stato ricoverato. Dopo gli attentati di sabato sera, nel corso della stessa notte, grazie alle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza, i carabinieri sono risaliti, attraverso il numero di targa della vettura, al proprietario della 500 Bianca, dalla quale erano partiti i colpi di pistola. Raggiunto presso la propria abitazione, l'uomo di Cervinara non ha potuto far altro che ammettere di essere lui alla guida della vettura, ma ha subito precisato che a far fuoco era stato il 32enne. Restano ora da capire le motivazioni dei due guati. Comunque, i protagonisti della vicenda sono vicini al mondo della droga, quali consumatori, ma considerati gli ultimi eventi, potrebbero essere anche coinvolti in un possibile giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Da qualche mese in Valle Caudina si registrano episodi che non fanno stare tranquilla la popolazione. Nelle scorse settimane si è tenuto anche un vertice in prefettura, al termine del quale si è deciso di rafforzare ulteriormente i controlli sul territorio. Ma intanto, nella prima serata di sabato, si sono registrate scene da far west, anche alla presenza di numerosi bambini per strada a Cervinara.